www.feyyazh.tv wrong Ma sei sicuro di quel che te te lo fare? perché ti ricordo che questi gli aiuti mischiai carriamo mille e 200 euro e poi basta. Zecchi ti spero che io sono studioso e non sei umano e per viste che gioco da miliardi bisogna studiare le mosse che lo sai. Ma questa chi è la dismina con gli umani e per loro dei soldi? Alta, hai tenuto una botta? Guarda, guida, guida, vai! Fingosa gli aiuti mischiai carriamo appena dopo! Mi sono cassegnati viciosi, perché questa chi è la volta buona? Ma ascolta, un po' un cattivo, tu ti dovessi, un po' un estetista, un po' se... Un estetista a me? Un estetista a ti? Ma, un estetista... Ti vedo adesso? Oddio! Ti vedo adesso! Ti vedo adesso! Ti vedo adesso! Si, si, ti vedo adesso! Eh, principe, buonasera! Ciao, moro! E allora? Stiamo conti tu? Eh, allora tutto bene, dai! Per cosa? I mischiai fino ai fatto? Eh no, no, è di procedere tutto bene, guarda! Ha segnamento gratuito per... Ah, segnamento gratuito, eh! Hai messo qualche aspetto? E guardate, si che battete la chiacca, eh! Ti è già spuntano tutti i mischiai! No, no, infatti ha già detto che ha segnamento gratuito per riuscire a cattare i toscani, insomma! Si, eh, per... No, 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 no! Eh, ma guarda! Posso già dire che anche stasera ha segnato provare a... Ha segnato provare? Ha segnato provare? Ha segnato provare? Tutto quello che ha avuto da te ha segnato provare stasera? No, no, no! Cioè, ha già detto la verità, cioè... Ogni giorno pensiamo a come fare per... Eh, per sistemare la faccenda... Ti sta tranquillo che... Mi dico una parola sola? Sta tranquillo! Ah, ti dico una parola sola! Ascolta, non fia, Moro! Mi dico un altro mese di tempo, non di più! Un mese! Però, Tombrosa, Giacchi, per la notte... L'ha da essere mia! Hai capito? Eh, no! Ma dai, ascolta! Ma no! Dai, fai una roba così! No! La posta mia! No, 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 no! Non sono mica dette decisioni qua, no? Hai capito, Moro? Eh, va bene! Ma con tutti i modi che è proprio quella lì! No, no, no! Moro, Moro! Fermati! No, dai! Ma aspetta un secondo! Mi ha esattamente portato qualcosa! Alla prossima! Alla prossima! Un mese, non di più! Un mese, non di più! Ma che fai buttare solo! Lui! Lui è stato detto! Certo! Certo! Lui è una cosa che mi ha detto! Ma è stato detto! Lui gli ha detto che non dà un altro mese di tempo! Eh! Però... E vuoi passare una notte con te? Eh! L'ora! Quindi che sì! Ma te sì è cosa? Ma se ti vuoi dire che ti è un mese? Ma tutti! Sì! 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 Come hai messo l'acqua? Come questa canica! La nostra vodka con la vodica! En shutter! Poi! Noi che ci mi lasciano davvero con la notte di analogia! anche ormai guarda e sai che? sai che? 1200 euro! e lui che era quel buono, guarda il biliardo insomma perchè vatti mai sbagliare? insomma 1200 euro fin non è che ma sia chissà cosa va bene anche senti che viene 200 euro se cambia e la situazione cambia, un mese di differenza dimmi sai che cambia ma ti assicuro che andrà a fare sì sì, ma ti ti è tutto pronto per l'emergenza sì sì, è tutto pronto ma la domanda all'è è sei pronti a farlo? bisogna che sei pronti dai Nezzo, potrò vuoi fare un'altra? ciao 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 ciao